Ho pensato di fare questo video per rispondere alla domanda quali sono le differenze nel pubblicare indipendentemente un libro in Italia e negli Stati Uniti o più in generale nel mercato anglosassone. Io scrivo e pubblico libri in due lingue, italiano e inglese, e i generi che pubblico sono primariamente riconducibili al fantasy e alla fantascienza. Quello di cui vi parlerò è solo la mia esperienza, quindi magari ci sono delle cose che non sono necessariamente traducibili nella vostra esperienza, ma in generale penso che quello di cui parlerò possa essere una cosa in cui si ritrovano molti autori che magari hanno pubblicato nei due mercati oppure che si stanno apprestando a farlo o che semplicemente hanno pensato di farlo. La differenza forse più ovvia del pubblicare nel mercato italiano e quello statunitense o anglosassone è che il secondo è molto più vasto e molto più competitivo. E questo è perché ovviamente il bacino dei lettori in anglosassolandia è molto maggiore rispetto a quello dell'Italia, ma anche il bacino degli autori che pubblico è molto maggiore. Quindi ovviamente questo dà luogo a una competizione molto maggiore per autori che comunque si suddividono una fetta di lettori che è più grande, ma se ci sono più autori e c'è più competizione, ci sono più risorse per produrre in modo produrre, quindi scrivere e pubblicare in modo professionale le loro opere, è più difficile ovviamente far emergere il vostro libro. E un'altra cosa che è importante da considerare che magari molti autori non pensano è che non necessariamente un prodotto che ha avuto successo in una lingua, quindi in questo caso magari in italiano, avrà successo in un'altra e quindi in un altro mercato. E questo perché ovviamente i gusti variano anche da mercato a mercato, ma anche perché potrebbe esserci un bacino magari di lettori maggiore nel mercato di appartenenza rispetto a quello anglosassone, comunque sia anche se non si può avere certezza che un prodotto che ha venduto magari bene in Spagna o in Russia o in Italia possa vendere altrettanto bene nel mercato anglosassone, consiglio comunque di tradurre un libro che ha già una storia di vendite consolidata e provata in un certo mercato. E questo perché i lettori hanno già votato con i loro soldi, qual è una storia magari soddisfacente o che piace e quindi prendere questa storia e tradurla e metterla su un altro mercato come quello anglosassone può già avere più possibilità di smuovere più copie o avere più interesse. Ovviamente quest'opera deve essere adattata al nuovo mercato e ne parlerò in questo video, ma è importante se avete un libro che ha già venduto moltissime copie di magari tradurre quello, dare priorità a quello invece che un libro che ne ha vendute un numero di copie molto minore. Un'altra cosa che sta diventando un pochino meno vera adesso, però che è comunque molto ma molto sentita, specialmente al giorno d'oggi, è che per fare in modo di far risaltare la vostra traduzione, magari dall'italiano all'inglese, dovete essere pronti ad avere un budget molto alto per vendere, per spendere delle copie. Questa ovviamente è una cosa che noto anche io promuovendo nel mercato americano. Una cosa così, anche come il costo del click è molto maggiore nel mercato statunitense rispetto a quello italiano, in molti generi, perché ci sono più autori che hanno più soldi e quindi mandano il costo per click sempre più in alto. Questa è una cosa che molti autori hanno già visto, è successa anche in Italia, quindi un anno e mezzo, due anni e mezzo fa, costava molto di meno a promuovere un libro, magari su Amazon. E sicuramente un discorso collegato a questo punto è che bisogna conoscere, oppure delegare a qualcuno che li conosce, i meccanismi di promozione a pagamento su magari Amazon, Facebook, BookPub, TikTok. Dovete essere in grado di sapere come funziona un certo tipo di piattaforma promozionale, capitalizzare su questo tipo di promozione, magari utilizzando uno, due o tre metodi di promozione a pagamento diversi. Quando magari in Italia, almeno al momento odierno, anche se sapete utilizzare bene solo Facebook Ads, potreste mandare il vostro libro in cima a una categoria di best seller su Amazon senza troppi problemi. Una cosa importante, questo è vero, sia in Italia, ma ancora più vero negli Stati Uniti. Se avete già un pubblico nella lingua, magari inglese, questo può aiutarvi ad avere già un certo tipo di vantaggio rispetto a un autore che si imbarca nel nuovo mercato senza, tra virgolette, conoscere nessuno, senza avere un piede d'appoggio su quel territorio. E questo perché un autore che magari ha già pubblicato in passato in inglese potrebbe già avere dei lettori, quindi potrebbe già avere potenzialmente delle recensioni, potrebbe riuscire a smuovere le prime copie, quindi avere una base d'appoggio dalla quale partire per promuovere efficacemente il vostro libro. E questo io l'ho notato dopo aver prodotto e pubblicato diversi fantasy mitologici in inglese. Il primo o il secondo erano più difficili ovviamente da attrarre interesse, però per quando ne avevo 9 o 10 avevo già delle persone che potevano recensire magari quei libri, potevano comprarle, quindi questo mi dava la possibilità di promuoverli più facilmente rispetto al primo o secondo libro. Un'altra cosa che ho notato è che scrivere in una serie, quindi diversi libri, 3, 4, 5, anche di più, in un genere con molti lettori e magari scrivere il vostro libro, se lo pubblicate su Amazon, KDP Select, è quasi un requisito se volete avere successo su un Amazon come quello americano. E questo si ricollega al tema della competizione, della maggiore competizione. La maggior parte degli autori indipendenti, specialmente in alcuni generi, hanno il loro libro iscritto a KDP Select per fare in modo di capitalizzare sulla visibilità, sulle copie vendute e questo sicuramente aiuta, dà un vantaggio rispetto a un autore che magari è wide, che pubblica su tutti i negozi e che non dà l'esclusiva dei suoi libri in formato elettronico ad Amazon. Però per bilanciare questo discorso che ho fatto a un autore che è concentrato al 100% su Amazon, visto che è il negozio più grande, vorrei fare un altro discorso, spezzare una lancia in favore anche all'opzione wide, ovvero pubblicare in tutti i libri e non dare l'esclusiva delle vostre storie ad Amazon. E questa è una cosa di cui vi voglio parlare perché è stata un'altra delle mie esperienze personali nel pubblicare libri nel mercato anglosassone. Io ho provato l'opzione Kindle Unlimited all'inizio con i miei libri, ma ho visto che non andava molto bene. Una delle ragioni era perché il genere che scrivevo era in un genere che non aveva molti lettori di Kindle Unlimited, ho avuto sì qualche borro, qualche presa in prestito, qualche soldo da pagine rette, ma il fatto che i miei libri erano abbastanza corti e in un genere poco letto su Kindle Unlimited, mi ha convinto a togliere l'esclusiva di questi libri ad Amazon e a pubblicarli in tutti i negozi. Ora per molti mesi non ho avuto davvero molti riscontri, nel senso non ho avuto tante copie vendute, tante royalties da questo fatto, da questo trasferimento da Amazon a tutti gli altri store, ma pian piano più libri pubblicavo e più familiarizzavo sulle piattaforme di pubblicazioni diverse da Amazon, come per esempio Kobo, Apple Books, Barnes & Nobles e altri store, magari su Draft2Digital e soprattutto librerie, mi ha dato la possibilità di capire alcuni meccanismi che non conoscevo all'inizio e alcuni, soprattutto meccanismi promozionali che potevo utilizzare in alcuni negozi, come per esempio Kobo. Kobo è un competitore di Amazon e dà una possibilità interessante agli autori che pubblicano attraverso Kobo Writing Life di entrare a far parte di alcune promozioni. Non mi sto a parlare di tutte queste promozioni, dei meccanismi di queste promozioni, ne ho già parlato in un altro video che ho dedicato a come promuovere su Kobo, quindi vi consiglio di andarvela a vedere se siete interessati. Quello a cui ci tengo invece è parlarvi del fatto che queste promozioni, alcune di queste promozioni, mi hanno davvero aiutato a aumentare la visibilità di alcuni dei miei libri su un negozio come Kobo. E un esempio concreto è che io ho un box set di 10 libri mitologici e Amazon non vi dà la possibilità di guadagnare 70% su prodotti ebook che costano più di 9,99 euro. Invece su negozi come Kobo voi potete mettere un cofanetto, quindi 10 libri a 20 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro e continuare a guadagnare 70%. Ora io ho messo questo mio cofanetto di 10 opere su Kobo e l'ho visto che costavano le opere singolarmente tra i 2,99 euro e i 3,99 euro, ho messo il cofanetto a intorno ai 22-23 euro che corrispondi a intorno ai 30-32 dollari canadesi. Sita il caso che una di queste promozioni di Kobo era dedicata proprio a cofanetti e io ho iscritto a questo box set di 10 libri a questa promozione particolare e nell'arco di pochi giorni, visto che erano scontati, sono riuscito a smuovere diverse copie perché una persona che se ritrovava questo box set magari di 30 dollari, pagava solo 10 o 15, questo era una possibilità molto diciamo così golosa per un lettore di prendere tutti quei libri a un prezzo che era sostanzialmente di un terzo e mi ha dato possibilità di aumentare la visibilità al mio libro e di smuovere davvero molte copie. Questa è una cosa che non avrei potuto fare con Amazon ovviamente perché il prezzo era costretto diciamo così a un massimo di 9,99 euro e da questa cosa qui, da quel momento in poi, ho imparato a capitalizzare su questa particolarità. Quel box set in inglese non avrebbe potuto smuovere quelle copie senza l'opzione wide e senza il fatto di promuoverlo in un mercato più grande come quello anglosassone. Mi piacerebbe sapere a questo punto se anche voi avete pensato o magari avete già promosso i vostri libri in altri mercati e magari se mi dite qual è la vostra esperienza riguardo possiamo creare un qualche tipo di dialogo e capire se ci sono delle cose che magari potremmo fare meglio in futuro. Ma la cosa importante è che sicuramente io consiglio di tradurre dei libri specialmente se hanno una storia di vendita comprovata nella vostra lingua di appartenenza e di vedere magari come va a finire. Sappiate solamente che sarà un esercizio di investimento di tempo e di risorse molto importante ma può valerne la pena se fate bene i compiti a casa, se traducete l'impacchettatura del libro dall'italiano all'inglese per fare in modo di riflettere i gusti dei lettori del mercato anglosassone e se sapete come funzionano i meccanismi di promozione nel mercato americano e se siete disposti a spendere abbastanza per iniziare quel processo di visibilità che può davvero aiutarvi a vendere un numero molto alto di copie in un mercato che praticamente fa sembrare quello italiano una piccola pozzanghera. Ora se volete sapere di più su come promuovere un vostro libro su Amazon vi consiglio fortemente di andare a vedervi questo video in sovraimpressione in cui ne parlo in dettaglio.